Nel 48 d.C., come ci racconta lo storico Tacito nell'undicesimo libro degli Annales, l'imperatore Claudio decide di accogliere la richiesta del Senato e dei primores dei notabili della Gallia e di concedere loro lo ius honorum, il diritto di accedere alle cariche pubbliche a Roma. I Galli erano già cittadini romani, ma la loro cittadinanza, secondo la ricostruzione degli storici, era limitata, era una civita assassina e suffragio. Sulla decisione dell'imperatore si apre un acceso dibattito in Senato, dibattito di cui Tacito riporta alcuni stralci significativi. Lo storico dà voce solo a coloro che si oppongono alla richiesta e ai loro argomenti. Il primo è che l'Italia non ha bisogno di senatori provenienti da altre regioni. Coloro che già siedono in Senato hanno il merito di avere ben gestito lo Stato, nel massimo rispetto delle tradizioni. L'ingresso dei Galli in Senato rappresenterebbe una minaccia per il mosmaiorum. Il secondo è che i Galli rappresentano il nemico per antonomasia del popolo romano e quindi è impensabile una loro integrazione nella classe dirigente di Roma. I primores della Gallia, secondo gli oppositori, sono ricchi che avrebbero invaso ogni cosa, ogni carica pubblica. L'imperatore Claudio replica subito all'opposizione senatoriale con un discorso noto con il titolo di Orazio Claudi Cesaris Deiure Honorum Gallis Dando. Il discorso ci è giunto in due redazioni o versioni. L'originale ci è noto in buona parte da un'iscrizione, la tavola di Lione o tavola claudiana scoperta casualmente nel 1528 a Lione in Francia. La lunga iscrizione è incisa su una tavola di bronzo in lettere dorate. Purtroppo il testo è lacunoso perché privo della parte iniziale e centrale. La seconda versione è quella che lo storico tacito inserisce nell'undicesimo libro degli Annales. Egli non trascrive l'Orazio Claudi così come appare nell'iscrizione ma la rielabora senza tuttavia tradirne l'intenzione originaria e i contenuti fondamentali.